Sono quasi 20 anni che lavoriamo sempre nel sociale perché noi facciamo sempre beneficenze. E ci siamo dedicati veramente con il cuore a dare quest'atto di solidarietà. E spero che si ripeta ogni anno. Uova di Pasqua per i bambini, palme benedette, giochi, animazione gonfiabili e acconciature gratis per grandi e piccini. E' stata questa la Pasqua solidale organizzata dall'Associazione Madonna dell'Arco di Piazza Gramsci a Giuliano. Una mattinata all'insegna della condivisione della fede e dei tanti sorrisi di famiglie e bambini che nei giardini del primo circolo didattico hanno trascorso una giornata spensierata. Sono quasi 20 anni che lavoriamo sempre nel sociale perché noi facciamo sempre beneficenze. Il nostro scopo è questo qua, cambiare un po' le feste giulianese perché ci sono tante gente che hanno bisogno della solidarietà. L'evento ha avuto il patrocinio morale del Comune di Giuliano. L'Associazione Madonna dell'Arco insieme al Comune di Giuliano hanno organizzato questa bella domenica di gioia per i bambini. Una domenica all'insegna della gioia e della cristianità. Nel corso della mattinata solidale i professionisti dell'airstyle della Mia Academy hanno donato acconciature e tagli. Abbiamo donato un giorno di bellezza a tutte le persone, tra bambini, adulti, come anche maschi e femmine e ci siamo dedicati veramente con il cuore a dare questo atto di solidarietà. E ringrazio molto l'Associazione Madonna dell'Arco. È un'emozione bellissima, sperando che ogni anno si ripeta questa cosa. Non solo professionisti da Giuliano, ma un momento che ha chiamato a raccolta tutta l'area nord. E spero che questo evento possa dare uno spunto in più anche a altri paesi. L'iniziativa si inserisce nel calendario di eventi ludici e religiosi in occasione delle celebrazioni in preparazione del lunedì in Albis, il momento clou della vita dei battenti e dei fedeli.